Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia dal primo istante, ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la sua stima, rispetto e sottomissione a te, quali onori e omaggi io ti dovrei prestare. Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti, e per questo ricordo a te, attraverso questa novena. Sei la Madre di Misericordia, cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere presso il Signore, ti supplico di farmi ottenere, esporre la grazia richiesta. Se ciò che ti chiedo non è per la gloria di Dio e il bene della mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen. O Immacolata Concezione, questo dolce nome mi invita ad avere fiducia in te, mi porta a conforto e fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore, e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede che ho ricevuto nel Battesimo. Sì il mio soccorso, Immacolata Concezione, e ottienimi dal nostro Padre Celeste, per i meriti di tuo Figlio, la grazia di... Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Dio, che con l'immacolata concezione della Vergine hai preparato al tuo figlio una degna dimora, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua intercessione, di giungere fino a te in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.